Mister Roberto D'Aversa avrà di che sorridere dopo qualche preoccupazione di troppo. L'attaccante Pietro Iemmello è infatti in rosso-nero, dallo Spezia alla Virtus Lanciano in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore nell'ultima stagione ha segnato 16 gol in 35 presenze con il Foggia, il Lega Pro. 23 anni, Iemmello in terra frentana avrà la grande occasione per confermarsi attaccante di spessore anche in Serie B. Iemmello, dopo una grande stagione tra i satanelli, era giocatore graditissimo anche ad altri club. Il DS Luca Leone è arrivato comunque primo. La Virtus Lanciano dovrebbe ingaggiare, sempre in prestito dalla Juventus, anche l'attaccante Eric Lanini, classe 1994. L'anno scorso in forza la Virtus Entella, dove ha giocato 18 partite e segnato tre reti, ma il giocatore non ancora firma. Domani invece sarà il turno di Stefano Padovan, punta centrale, classe 94, ex Crotone, Vicenza e Pescara. Padovan è in ritiro a Roccaraso e il suo legame rosso-nero sembra ormai pura formalità. Dunque i pezzi in attacco stanno arrivando con un generale sospiro di sollievo. Rimane invece sempre aperto il discorso relativo al portiere dopo il no di scuffette dell'Udinese. Intanto ecco il nuovo arrivato Pietro Iemmello. Sì, ho seguito l'anno scorso parecchi partiti del Lanciano e comunque sì, ho avuto sempre dei brevi attaccanti che hanno sempre fatto bene. L'anno scorso ho giocato in un 4-3 come prima punta e come caratteristiche penso di venire spesso a prendere la palla e attaccare la profondità. Sicuramente l'anno scorso col Foggio è stata un'esperienza importante per avermi lanciato in Serie B quest'anno col Lanciano. Quindi sicuramente dovrà essere un percorso che dovrà dare continuità. Col Lanciano è stata una trattativa diciamo lampo perché il direttore Leone ha parlato con lo Spezia e abbiamo trovato subito l'accordo. Penso che bisogna partire con i piedi per terra e pensare prima di tutto alla salvezza, poi se possono venire anche i play-off meglio.